Buongiorno, buongiorno. Chi è Massi? Questo di Andrea Dernata che dice stasera tutti da Massi, chi è Massi? Siamo più o meno alla stessa età di sparmere carta. Questi programmi sono programmi che non sono vostri, sono programmi tradizionali. Grazie. Rido, ma perché, e non quindi a livello personale, anche se la storia di Gini è una storia straordinaria, che mi piace omaggiare anche a livello personale e come appartenente a una generazione. Lui ha soltanto qualche anno più di me, ma da rappresentante forse no, ma da uno dei tanti italiani, ormai si fa tutti e due per 40-50, non siamo più giovani, ma ci hanno raccontato per troppo tempo che noi eravamo soltanto dei bamboccioni, delle persone incapaci di fare alcunché e la sua storia personale è una storia che invece è una storia meravigliosa, una storia che deve servire anche a tante altre ragazze e tanti altri ragazzi. Però, prima di tutto, vorrei dire una cosa a nome del Governo. Vorrei dire una parola a nome del Governo della Repubblica Italiana e vorrei dire grazie a Gini, a tutte le persone che lavorano con lui, alle ragazze e ragazzi che ci credono e che tutti i giorni dimostrano che non si deve portare il cervello all'estero, come viene detto da qualcuno con una frase fatta, ma che si possono portare e importare i cervelli qui, dando al talento una possibilità per esprimersi. Di fatto noi siamo la terra della creatività, dell'innovazione, della cultura, noi siamo la terra della fantasia. Eppure negli ultimi anni non sempre siamo riusciti, siamo stati in grado di sfruttare tutte le possibilità che abbiamo avuto. Rainbow è una storia straordinaria perché dimostra che invece i sogni possono prendere forma. Nelle magliette dei bambini c'è scritto noi siamo il futuro, meritiamo un paese migliore e credi al tuo sogno. Credere a un sogno significa provare concretamente a andare avanti senza spinte e spintarelle ma sulla base del merito. E questo è accaduto qui. Non aver paura delle proprie radici. A me fa impazzire che questo luogo sia proprio sul confine tra Loreto, città della pace e Recanati, città della poesia. Io penso che avete messo i sindaci. Loreto e Recanati ovviamente per storia non hanno bisogno di mettere sui cartelli, però è carino questo. Passi a Loreto perché poi hai fatto il giro, no? Prima è Loreto, poi entro dentro i Recanati, poi Torre e ho detto ah guarda siamo a Recanati, noi siamo a Loreto. Ed è anche bello che le radici di una terra possano produrre, possano tenere insieme le ali, non lo dico perché siamo nella terra delle Wings, ma le radici e le ali. Ecco questa è l'Italia, non è soltanto Loreto, non è soltanto Recanati, non è soltanto la Rebo, radici ed ali. Allora io dico grazie, prendo anche però un impegno che è quello di andare avanti con una serie di proposte concrete che possono aiutare il talento a mettere la residenza sempre di più in Italia. Per esempio il Patent Box, a cui faceva riferimento Iginio, è una piccola cosa che sta dentro il decreto Investment Compact ma che può, anzi prima nella stabilità, può finalmente cambiare il modello di business in Italia. E però dico anche che dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme, una volta finita tutta questa parte delle riforme che sta diventando anche alla fine noiosa perché tutti i giorni si fanno le riforme, però una volta che abbiamo sistemato burocrazia, fisco e giustizia civile e non è pronto, no, non si può fare altrimenti, un altro giorno ho visto uno che ha detto dobbiamo rendere più semplice il fisco, per forza, renderlo più complicato non ci riuscirebbe nemmeno un supereroe, cioè rendere più complicato il fisco italiano è impossibile. Bene, una volta fatte queste però c'è una sola riforma che è necessaria fare, è la riforma della nostra voglia di fare, della nostra mente, cioè c'è bisogno di riuscire a fare con la cultura, l'innovazione, l'educazione, il talento e come dire tutto ciò che è fantasia e creatività far diventare queste caratteristiche degli italiani non più un vezzo ma un'occasione di business, è quello che ci insegneremo, è quello che ci insegnano le Winx, è quello che ci insegneranno le prossime sfide perché le prossime sfide saranno ancora più affascinanti da quello che mi è stato sussurrato, girellando un po' nelle stanze e quindi di conseguenza nel chiudere dico grazie ai bambini che vi ho fatto far tardi e siete stati qui e vi siete già addormentati, stai dormendo un po' vero? Grazie a chi di voi crede in questo disegno e in questo sogno, dico disegno e sogno insieme e dopo aver visto quello che fate il disegno e il sogno a maggior ragione stanno insieme, ho visto anche delle cose che non posso riferire perché mi hanno fatto vedere delle cose che fortunatamente non diventeranno mai serie televisive, che voi umani, Blade Runner, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare e grazie ai Gini e a tutti quelli che pensano che l'Italia sia un paese bellissimo in cui il passato è meraviglioso, ma tenetevi forte, il futuro può essere ancora più bello, questo è l'insegnamento che io prendo venendo via di qua e auguro a tutti voi e soprattutto ai bambini che questi tricolori che sventolano in mano non siano soltanto una bandiera da sventolare, ma siano un impegno, fare dell'Italia un posto più bello ancora del passato che abbiamo alle spalle e grazie a gente così ce la faremo, in bocca al lupo a tutti!